Riccardo Scamarcio, uno dei più amati attori italiani, ha rilasciato un'intervista senza filtri a Belve, condotta da Francesca Fagnani. Durante la conversazione ha condiviso aneddoti e confessioni personali, svelando lati inaspettati della sua vita e carriera. La chiacchierata in onda su Rai 2 ha mostrato non solo il suo percorso artistico, ma anche le sue esperienze intime. Un tema delicato affrontato è stato quello delle dipendenze. Scamarcio ha ammesso di aver fatto uso di droga in passato, ma ha sottolineato di non esserne mai stato dipendente. Ha descritto un periodo della sua vita come dissipato ma artistico, caratterizzato da ribellione e creatività. Ha anche parlato dei premi nel cinema, esprimendo rammarico per non aver ricevuto il giusto riconoscimento. Ha ammesso di aver pestato i piedi a perfluenti nel settore, rivelando un lato vulnerabile. Infine si è discusso dell'amore. Scamarcio, legato a Benedetta Porcaroli, ha parlato della sua relazione con affetto. La madre ha espresso gioia per la serenità del figlio. Questo momento di tenerezza ha mostrato un lato più personale, lontano dall'immagine di divo del cinema. La sua sincerità e umorismo hanno reso l'intervista un'occasione unica per conoscere meglio l'uomo dietro. Grazie a tutti! Grazie a tutti.